Ciao a tutti ben ritrovati su Sunshine Money prima di iniziare mi raccomando come sempre volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale avevo bisogno di guadagnare un po' di rubli e per questa esigenza mi è venuto incontro uno di voi che quindi ringrazio attraverso il quale ho scoperto questo sito che oggi vado a presentarvi ossia Shara Today questa piattaforma appunto ci dà la possibilità di guadagnare in modo veramente molto semplice dei rubli come funziona innanzitutto bisognerà iscriversi e trovate tutti i link in descrizione come sempre il sito è rosso io sono su Chrome quindi potete andarlo a tradurre in italiano dicevo bisognerà iscriversi una volta iscritti è veramente molto molto semplice da usare ci basterà entrare nel nostro profilo e come dice il sito stesso il modo più semplice per andare a guadagnare ripeto rubri è semplicemente quello di andare a risolvere un semplicissimo capcia e poi andremo a vederlo insieme che ogni ora ci darà diritto in modo assolutamente casuale a questa quantità di rubri si va da 0.20 a 0.50 quindi dicevo una volta iscritti potremo entrare nel nostro account io mi sono già iscritto e sono già nel mio account vado nella voce conto e adesso vi faccio vedere come funziona eccomi qui sono ripeto nella voce conto qui vado nella voce ricevi bonus poi qui la prima volta voi cliccherete su questa voce dove c'è scritto specificando il tuo numero pair dove appunto andrete ad indicare il vostro numero di portafoglio pair ecco qui salverete il tutto salverete le modifiche e potrete andare avanti quindi qual è il capcia come dire che dovrete andare a risolvere semplicemente vi basterà spuntare la voce non sono un robot ecco qui il capcia che vi viene proposto andiamo a risolverlo ok io adesso cliccherò su ottieni un bonus e il sito in modo assolutamente casuale come vi ho detto prima mi darà una quantità di rubli tutti i rubli andranno ad accumularsi qui dove c'è scritto il saldo io in questo momento come potete vedere ho 0.35 rubli ho scoperto da poco questo sito mi sono iscritto appena ieri appunto grazie ad uno di voi come vi dicevo e ho adesso questa quantità arrivati alla soglia di prelievo minima di 10 rubli quindi il sito in automatico andrà a pagarci sul nostro conto pair questo è quanto questa operazione potremo farla ogni ora molto molto semplice andare a guadagnare dei rubli su questa piattaforma io adesso clicco su ottieni un bonus e come potete vedere mi ha dato 0.18 rubli questo è quanto ragazzi non bisognerà fare più assolutamente nulla se non aspettare e questa operazione come potete vedere si può ripetere ogni ora è partito il conto alla rovescia e se voglio tra un'ora potrò ripeterla e andare avanti così ripeto arrivati al prelievo minimo di 10 rubli il sito in automatico ci andrà a fare l'accredito su pair questo è un modo veramente molto molto semplice e molto pratico per andare a guadagnare un po' di rubli in modo assolutamente gratuito e quindi io in chiusura ringrazio la persona che mi ha fatto scoprire questo sito ripeto è uno di voi vi ringrazio anche per la visualizzazione e vi rinvito ad iscrivervi al canale a lasciare un like ai video che vi piacciono mi raccomando ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare ricordo anche che se volete sostenermi potete farlo in modo assolutamente disinteressato io ve ne sarò grato attraverso tutti i wallet, tutti i portafogli che trovate in descrizione oppure in futuro attraverso il sistema Brave di cui vi ho parlato tante volte ricordo che Brave è il browser legato alla criptovaluta BAT che tra l'altro vi invito a provare vi accorgerete delle differenze con gli altri browser questo browser ha implementato un sistema pubblicitario che ci dà diritto in modo assolutamente gratuito a questi BAT sistema pubblicitario che ahimè in Italia non è ancora attivo quindi andremo ad aggiornarci in futuro anche da questo punto di vista io quindi sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti ciao e al prossimo appuntamento